È il 26 agosto 2021 la nuova data dell'udienza del processo per la morte di Martina Rossi davanti alla Suprema Corte dopo l'annullamento della data del 22 luglio che era stata già fissata. Slitta così di un altro mese l'atto finale in Cassazione per il procedimento penale a carico di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. L'udienza è stata posticipata alla sessione feriale perché il ricorso presentato da uno dei due imputati presso il Tribunale di Perugia ha rallentato il procedimento. I due giovani nel processo bis di appello sono stati riconosciuti colpevoli di aver tentato la violenza sessuale sulla ragazza di Genova il 3 agosto 2011 a Palma di Majorca. La ventenne precipitò dal balcone del sesso piano, dice la sentenza, nel tentativo di sfuggire. Il fatto avvenne nella camera 609 dell'hotel Sant'Ana dove la studentessa era salita dai due giovani aretini di Castiglion Fibocchi. In primo grado Albertoni e Vanneschi erano stati condannati anche ad altri tre anni di reclusione per la morte in conseguenza di altro reato. Dieci anni dopo quella tragica vacanza alle Baleari potrebbe dunque arrivare adesso la parola fine nella vicenda giudiziaria. La corsa però è contro il tempo, in combi infatti la prescrizione che scatterà ad ottobre.